È un'iniziativa quella per promuovere il tennis, non è la promozione di un circolo ma è la promozione di un'attività che è il tennis. Mi ha fatto piacere che da quest'idea abbiano aderito quasi tutti i circoli irpini e questo ha un significato molto importante perché significa che tutti quanti vogliono concorrere alla crescita di questa disciplina che in questo periodo sta andando tanto anche per risultati che stanno ottenendo i nostri giocatori e quindi è giusto che noi da parte nostra ci impegniamo anche rispetto alla nostra città. Città, Capoluogo e Provincia, promotori di uno sport che sta esaltando tanti profili giovani importanti. Sì, ci sono tanti ragazzini che stanno giocando quindi le scuole stanno andando bene, stiamo ottenendo anche dei buoni riscontri da un punto di vista agonistico sia sul livello intermedio e poi abbiamo anche qualche nota di spicco come sono stati gli ultimi recenti risultati di atleti tipo Sara Milanese che è in classifica mondiale, c'è Elena Zocco che ha vinto un torneo internazionale che rappresentano le punte però dietro ci sono tanti ragazzini che comunque si stanno dando da fare. C'è stato un bel successo, devo dire, abbiamo avuto un buon riscontro, diversi interessati, appassionati. Devo dire che finalmente si vede nel movimento tenistico irpino si vede un po' di movimento in più, siamo abbastanza contenti. Abbiamo cominciato da poco, settimana scorsa con la scuola tennis e sta andando abbastanza bene quindi speriamo di continuare su questa strada. Ci sono i presupposti però per vedere nascere le future star del tennis in Irpinia? Sì, assolutamente sì. Ovviamente è un percorso lungo, deve essere accompagnato non soltanto da noi istruttori ma anche dalla famiglia che deve comunque seguire i bambini senza mai tralasciare lo studio perché comunque devono andare di pari passo la carriera scolastica così come quella sportiva sperando poi un giorno certo di riuscire ad emergere in questo sport. Sì, sicuramente è un evento apprezzabile, tanti bambini, è stato molto coinvolgente, ha suscitato tanto interesse e tantissimi bambini hanno preso contatto molti per la prima volta con la racchetta, con il tempo, con lo spazio e insomma credo che sia stata una cosa sicuramente positiva. Potrebbe ripetersi questo evento secondo lei? Sicuramente, noi quando si tratta di avere la racchetta in mano e avere i bambini intorno siamo molto felici ci auspichiamo che questo evento possa ripetersi con una frequenza maggiore. Il tennis in Irpinia secondo Piero Niespole è uno sport di nicchia, uno sport ben preso in considerazione dalle famiglie? No, penso la seconda cosa, la provincia di Avellino per il terzo anno consecutivo ha partecipato alla fase nazionale della Coppa delle Provincie quindi c'è un movimento di bambini qualitativo e quantitativo sicuramente apprezzabile. Grazie. Grazie.